Il nome e cognome? Franco Liberti Chef pasticcere? Sì, io mi identifico un po' pasticcione, così andiamo sempre sul sicuro. Adesso sono a San Patrignano, è il ristorante di Muccioli che ha aperto tre anni fa, ristorante Evite. Lavoriamo con una brigata completamente con ragazzi che hanno avuto un percorso all'interno della comunità di San Patrignano, quindi c'è un valore umano particolare, una brigata a tutti gli effetti che ha un valore aggiunto. Cosa creiamo? Creiamo dei dolci assolutamente che danno un occhio alle materie prime, che danno un occhio alla leggerezza, al mangiare bene e al stupire. Io dico sempre che la pasticceria è il lieto fine di una faura, è la chiusura del siparo. È un qualcosa di magico, deve comunque lasciare al cliente un ricordo, un momento, un'emozione che quando puoi tornare a casa potrà raccontare o dare a chi poi racconta quello che ha vissuto.